Cresce il numero delle donazioni di sangue nella struttura trasfusionale di Arezzo che nel 2023 si attesta sulle 8.214 unità, in salita rispetto al 2022 quando si era registrata una flessione rispetto all'anno precedente. Attività di raccolta in crescita anche nella struttura di Bibbiena, stesso trend in quella di Sansepolcro e Cortona. Nella struttura del Valdarno, dove è stata data priorità alle donazioni di plasma, l'attività di raccolta invece è lieve flessione rispetto al 2022, a fronte di un'attività di terapia trasfusionale che nel centro del Valdarno vede invece un sensibile incremento pari al 10%. Ad Arezzo le attività svolte dalla struttura trasfusionale all'interno del Sandonato, aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, riguardano la raccolta di emocomponenti a cui si affianca la produzione, nel congelamento, stoccaggio e distribuzione degli stessi raccolti ad Arezzo e nelle vallate, e ne svolta anche la consulenza di medicina trasfusionale e la consegna di emocomponenti ai reparti alle case di cura convenzionate. Inoltre è in programma breve l'apertura di un punto della rete di medicina rigenerativa. La giornata mondiale dei donatori di sangue che si celebra il 14 giugno è importante in quanto serve a ricordare l'importanza della donazione, sottolinea il dottor Pietro Pantone, responsabile dei centri trasfusionali dell'Asda Toscana Sud-Est. Inoltre voglio rivolgere un invito a tutti, soprattutto ai giovani, a diventare donatori. C'è sempre bisogno di sangue e plasma, conclude. La donazione aiuta a fare la differenza nella vita di molte persone.